Dopo essere stati insieme con l'Enterprise al limite più esterno della Via Latte, oggi insieme con la mitica astronave comandata da James T. Kirk, andiamo fino a uno dei punti più estremi della nostra galassia, il centro della Via Latte. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ad accompagnarci in questo viaggio però non è la serie classica, bensì la serie animata che ne ha proseguito le vicende, a partire dal 1973 e fino al 1974, per un totale di 22 episodi. Rispetto alla serie dal vivo, gli autori si poterono permettere una maggiore creatività, non solo nell'ideazione delle sfide che doveva affrontare l'Enterprise nel corso dei vari episodi, ma anche per quel che riguarda le razze aliene che l'equipaggio si trovava ad affrontare. In questo caso, infatti, vennero proposti degli extraterrestri molto meno umanoidi rispetto alla serie classica, e non solo nell'equipaggio dell'Enterprise, vennero anche integrati un maggior numero di extraterrestri, oltre a Spock. Troviamo in particolare Arex, posto al fianco di Sulu nella navigazione dell'astronave, Edem Rees, che possiamo considerare come la vice di Hukura nelle comunicazioni. Gli attori della serie classica vennero poi scritturati tutti come doppiatori dei rispettivi personaggi, mantenuti nel corso della storia. Questo perché Genro Denberry pose come vincolo per la trasformazione della serie televisiva in una serie animata, proprio il mantenere l'Enterprise e il suo equipaggio come protagonisti. L'unico del caso originario a non essere stato confermato fu Walter Koenig, che interpretava Pavel Chekhov. Questo perché il suo personaggio venne sostituito da Arex. Andiamo però a affrontare il viaggio dell'Enterprise verso il centro galattico, avvenuto nell'ottavo episodio della serie animata, ovvero le magie di Megas 2. Diario del Capitano, data astrale 1254.4 Per anni, gli scienziati avevano teorizzato che se la nostra galassia fosse stata creata da una grande esplosione, il centro delle galassie avrebbe potuto essere fonte di materia nuova. Sarebbe fantastico assistere alla creazione di materia nuova, vero Spak? Se succedesse, Capitano, potremmo anche imbatterci in forze e fenomeni che sono al di là della nostra comprensione. Il centro delle galassie, Capitano. È il punto di creazione. Un fenomeno straordinario, Capitano. Le teorie enunciate sembrano essere esatte. Capitano, quella cosa ci sta risucchiando. Siamo a velocità 6. I dispositivi segnalano un grande vortice materia e energia, Capitano. Velocità 7. Velocità 8. Ci porti fuori di qui, signor Sulu. Ci sta sempre risucchiando. Velocità 9. 10. Inserire contro energia d'emergenza. Forse abbiamo ancora una possibilità. E rispettando le leggi atmosferiche, il centro di questo straordinario vortice sia perfettamente calmo. D'accordo. Cerchiamo di raggiungere l'occhio del ciclone. Signor Scott, a rapporto. Tutto sta tornando a posto, Capitano. Dove siamo? Ho paura che le nostre coordinate abbiano ben poca importanza qui, Tenente. Dai miei dati risulta che non siamo nel tempo e nello spazio da noi conosciuti. Noi oggi sappiamo che al centro della Via Lattea si trova, invece, un buco nero supermassiccio, Sagittarius A-Star. La prima immagine o foto del buco nero al centro della nostra galassia è stata rilasciata proprio nel 2022, il 12 maggio per le esattezze. E' il risultato di 5 anni di elaborazioni di dati astronomici raccolti a partire dal 2017 dalla collaborazione Event Horizon Telescope, ovvero una rete di reti di radiotelescopi. I radiotelescopi, infatti, per essere sempre più efficaci, vengono costruiti come una rete di piccoli radiotelescopi. L'Event Horizon Telescope ha riunito varie reti di radiotelescopi sparse nel mondo per, in qualche modo, realizzare una specie di gigantesco radiotelescopio per utilizzarlo come strumento per esaminare le sorgenti radio. In questo modo sono state realizzate le immagini dei primi due buchi neri, osservati, diciamo così, in maniera abbastanza diretta, ovvero M87 Star e, appunto, Sagittarius A-Star. In generale, un buco nero è una sorgente di onde radio. E, in particolare, Sagittarius A-Star, proprio come sorgente di onde radio, venne osservato per la prima volta nel 1954. Da John Krauss, Sien-Cin-Ko, mi scuso per la pronuncia, e Sean Matt, che utilizzarono il radiotelescopio dell'Università Statale dell'Ohio. Per associare questa sorgente di onde radio con un buco nero super massiccio, bisogna aspettare la metà degli anni 90, grazie ai lavori di Reinhard Genzel e Andrea Mia Goetz. Proprio grazie ai risultati ottenuti, i due ottennero il premio Nobel per la fisica nel 2020. In particolare, la Genzel è diventata la quarta donna in assoluto a vincere il premio Nobel nella fisica. Tra l'altro, sempre nel 2020, il terzo vincitore del premio Nobel per la fisica fu il matematico Roger Penrose, sempre grazie ai suoi lavori sui buchi neri. Vorrei però fare alcune osservazioni sulle soluzioni scelte dagli animatori nel corso dell'episodio Le Magie di Megastu. In particolare, possiamo osservare che l'Interprise, a un certo punto, viene investita da una serie di onde, che magari noi oggi potremmo interpretare come delle onde gravitazionali, visto che, subito dopo, l'astronave viene catturata proprio dal vortice posto al centro della Via Lattea. Inoltre, l'equipaggio si ritrova impossibilitato a muoversi in maniera agevole sotto l'azione del vortice, proprio come se l'astronave fosse soggetta a una forte forza gravitazionale. D'altra parte, man mano che un'astronave si avvicina a un buco nero, avviene un fenomeno detto di spaghettificazione, che ovviamente gli animatori non hanno utilizzato. La spaghettificazione, in pratica, vuol dire uno stiramento dell'oggetto che si sta avvicinando verso il centro del buco nero. Questo avviene perché, se per esempio si sta cadendo di testa dentro il buco nero, la testa viene attirata dal centro in maniera molto più forte rispetto a quanto non avvenga ai piedi. Tra l'altro, il termine spaghettificazione è anche un termine effettivamente utilizzato negli articoli che studiano il fenomeno. Altra soluzione interessante sono le deformazioni che Kirk, Spock e McCoy sperimentano una volta trasportati su Megastu. Sono un modo molto semplice e immediato che hanno gli animatori per trasmettere agli spettatori che i tre si trovano in un universo alternativo, in cui la fisica è in qualche modo diversa rispetto alla fisica nel nostro universo. Nello specifico, poi, le leggi di quello diverso sono chiamate magia, però, che sia fisica o ignota o magia, alla fine l'effetto è sostanzialmente lo stesso. Possiamo quindi pensare che, nell'episodio più in generale nella fantascienza, il termine magia venga utilizzato non tanto come magia effettiva, ma come semplicemente qualcosa che la scienza ancora non può spiegare, magari perché non possiede gli strumenti per esaminarla. Ad ogni modo, quella non fu l'unica occasione in cui l'Enterprise si ritrova a viaggiare in un altro universo. E un altro esempio di questo viaggio lo ritroviamo sempre nella serie animata, in particolare nell'episodio conclusivo Universi Paralleli. In quel caso, in particolare, il viaggio in un altro universo avviene grazie all'attraversamento di una supernova. Una supernova, in realtà, è una stella particolarmente massiccia che esplode, generando una nuvola di gas particolarmente spettacolare. Ovviamente, senza scendere troppo nei dettagli di come sono entrati e poi come sono usciti, è inevitabile andare a associare il passaggio in universi paralleli con punti particolarmente estremi del nostro universo, cioè punti in cui la deformazione dello spazio-tempo è particolarmente accentuata. E in effetti, in alcuni modelli teorici, si ritiene che un altro oggetto molto particolare sia in realtà una porta verso un altro universo. Sto parlando dei wormhole, o anche tecnicamente detti ponti di Einstein-Rosen. Dal punto di vista matematico, sono molto simili ai buchi neri, ma in realtà, mentre nei buchi neri si ritiene che il destino ultimo sia semplicemente la scomposizione delle particelle elementari, nel caso del wormhole, invece, ciò che cade al suo interno potrebbe uscire in un altro spazio-tempo. Con questa immagine fantastica in mente, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli dedicati a Star Trek, magari nella segreta speranza che il prossimo non esca per il prossimo Star Trek Day. Lunga vita e prosperità! Lunga vita e prosperità!